Se sei un utilizzatore BlueShaper e SlimShaper ho un'ottima notizia per te perché il 20 di aprile farò un webinar dedicato appunto a te perché BlueShaper e SlimShaper ormai sono sul mercato da qualche tempo e sicuramente gli utilizzatori hanno necessità magari di un refresh quindi anche di sapere se ci sono da parte dell'utilizzatore se ci sono dei consigli o anche magari degli accorgimenti per evitare rischi ulteriori ma soprattutto è dedicato a voi perché sarete anche voi a partecipare a questo webinar e sarete voi a riportarmi magari benefici o problemi che avete riscontrato nell'utilizzo di BlueShaper e SlimShaper e se avremo tempo perché no anche dei bioceramici in forma sealer e putti quindi vi aspetto il 20 di aprile intorno alle 19 per un webinar organizzato da Simitnext grazie e a presto